Le parole di Walter Mazzarri dopo il 5-0 del Torino sul Soligorsco C'è un bel clima nella squadra Essere riusciti a creare quello che lei giustamente ha fatto notare e l'avrei detto anche ora è stato bellissimo È bello quello che io mi ricordo quando arrivai dopo poco l'ambiente com'era e essere riusciti nemmeno in un anno un anno è qualcosa a vedere la gente contenta un connubio così bello con la squadra i cori, tutto quello che c'è stato oggi e lei giustamente ha detto oggi mi sembra l'8 d'agosto insomma a vedere lo stadio così è bello, bellissimo e speriamo di dargli grandi soddisfazioni sempre di più perché se lo meritano e questo è anche un valore aggiunto per noi per i nostri giocatori per il nostro brasone insomma bisogna se si vuole provare a crescere bisogna farlo tutti insieme come vi ho sempre chiesto anche a voi della stampa oltretutto se c'è positività si riesce a lavorare meglio tanto gli avversari ce l'abbiamo noi almeno dentro di noi bisogna essere tutti uniti è saltata la trattativa per Paolo Di Bala al Tottenham i colloqui si erano riaperti in mattinata e l'affare sembrava ad un passo dalla conclusione ma gli Spurs non sono riusciti a prendere l'attaccante nonostante abbiano tentato in tutti i modi probabilmente questa deludente conclusione dovuta al fatto che la Juventus non ha ritenuto opportuno lasciare andare l'argentino senza avere a disposizione un sostituto ora la destinazione più probabile per il giocatore classe 93 sembra il Paris Saint-Germain che lo ha indicato come possibile successore di Neymar è ufficiale Lukaku un calciatore dell'Inter arriverà nel club tramite un comunicato pubblicato sul sito della società meneghina Romelu Lukaku è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter il calciatore belga che arriva dal Manchester United a titolo definitivo ha firmato con il club nerazzurro un contratto fino al 30 giugno 2024 vengono riportate anche le prime parole dell'attaccante volevo solo l'Inter perché Inter is not for everyone sono qui per riportare i nerazzurri la vittoria in conclusione il benvenuto del club al suo ultimo acquisto ora Romelu Lukaku un nuovo giocatore dell'Inter a lui va l'abbraccio e l'imboccalupo di tutti i tifosi nerazzurri welcome Romelu si complicano i rapporti tra il Milan e Gigio Donnarumma il motivo della tensione sarebbe l'ingaggio del portiere attualmente è di 6 milioni di euro una cifra di molto superiore ai nuovi parametri del club 2,5 milioni l'agente di Super Gigio Mino Raiola non è disposta ad accettare nessun ridimensionamento ma anche la proprietà Elliot sembra removibile sui nuovi principi il contratto di Donnarumma scadrà il 30 giugno 2021 ma la questione andrà risolta in tempi brevi il Milan infatti vorrebbe affrontare il problema prima dell'inizio del campionato o al massimo entro la prima sosta di inizio settembre